Anna e Marco fanno parte della stessa generazione, così come Adi e Giuliano. E anche loro. C'è Adi, che si emoziona per la prima volta. E Aldrick, che non ha mai smesso di farlo. Poi c'è Nikla, che ama farcela da sola. E Eladji, che nel gruppo trova il numero perfetto. C'è Giuliano che si fa guidare dalla tecnologia. E chi invece, come Marco, preferisce fare alla vecchia maniera. Ah, poi c'è chi si innamora in due secondi. E chi per quei secondi esulta. Chi lavora ogni giorno sul proprio benessere. E chi fa delle proprie passioni. Un lavoro. Questa generazione, siamo noi. La generazione di sportivi. Grazie di condividere con noi le emozioni dello sport da 30 anni.